Ti senti pronta la riapertura? Sei tecnicamente preparato? Mi presento sono Gaetano Barbuto, ho 49 anni, sono consulente e formatore Teamwork. Mi occupo di allestimento buffet, preparazioni e formazione operativa, quindi in essenza generare artigiani del breakfast, coloro che accolgono i nostri ospiti. Perché siamo qui? Abbiamo organizzato un corso, un mini corso online all'interno del quale l'operatore troverà delle linee guida, dei dettagli, dei suggerimenti per l'allestimento al buffet post emergenza sanitaria. Quindi abbiamo condiviso insieme a chi fa tutto il giorno questo lavoro, dei dettagli utili all'allestimento della pasticceria dolce salata, al forno, la gestione dei succhi, il costruire insieme delle linee appetibili attraverso lo yogurt e le tagliate di frutta, per mezzo di uno schermo protettivo. Quindi ci sono anche dei consigli utili per servire, per regalare quelle emozioni attraverso il buffet ai nostri ospiti. Ebbene abbiamo lavorato per te, abbiamo lavorato per creare un format che ti possa permettere di riaprire il proprio display buffet nella massima serenità. Tanti consigli utili post covid, quindi in piena emergenza nella gestione sobria per un buffet vincente. Ciao, buona colazione a tutti, vi aspetto!